Buongiorno, buondi, sono Cuduri. Mi hanno detto che Cagliari non ha l'Accademia di Belle Arti. Ma in fondo poi serve sta Accademia di Belle Arti a Cagliari? Cagliari ha la sala bingo più grande della Sardegna. Vogliamo mettere i giovani in un'Accademia a fare ciò? A fare cosa? A pensare? Vi vogliamo allenare alla bellezza? Vogliamo fargli capire che la differenza tra l'essere umano e l'animale forse è proprio l'arte? Slot machine, centri commerciali, avete tanta roba, ma serve ai giovani vivere d'arte? Vivere nell'arte? Serve ai giovani? Forse serve a tutti. Pensiamoci.